E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRigio01 e oggi siamo al dodicesimo episodio di Pokémon Nero ragazzi, andiamo subito! Eccoci qua ragazzi, dopo aver affrontato il bomberissimo Raffan, io direi di proseguire questa magnifica avventura che Belle già ci rompe il cazzo ragazzi, va bene. Appena iniziato il video è già bello e rompe, senti per caso si, 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 si e si, basta con i lotti, anche se è un allenatore in questi casi si rotta. Iniziamo subito con la lotta ragazzi, appena iniziato proprio, bom 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 bom, proprio così, una bella lotta incredibile, pazzurda ragazzuoli. Erdier, ok. Noi ovviamente ragazzi direi di mettere subito Pyro perché è l'unico con le mosse di tipo lotta, quindi proprio Arfly Pyro. Riduttore. Mi ha tolto un bel po', comunque me ne sono appena accorto che Pyro ha 104 HP. Ragazzi nei commenti, highstag 104, ok? Viva i 104. Oh, attenzione, vuole imparare fanghiglia signori, e io forse toglierai proprio Bola Raggio. Forse era meglio Barahonda, non lo so, non lo so, non lo so, vediamo, va bene, va bene. Fampurra. Mettiamo Dracula. Mettiamo Dracula. Dunque ragazzi, nel team vorrei avere assolutamente Calvantula, ci ho pensato. Io vorrei catturare Calvantula e forse, forse, lo metto a posto di Leopard, ne lo so, ne lo so, eh. O di cono gelato, devo ancora pensarci. Bravo, bravissimo Dracula. Livello 28 per Dracula, ragazzi belli. 70 di velocità Dracula, eh, attenzione. Sirvine. Mettiamo cono gelato, ragazzi. Proviamo un attimo con cono gelato, magari fa qualcosa contro di lui. Magari riesce a fare qualcosina, vediamo un po'. Vento gelato, ok, ed è attacco, grande cono gelato. Vento gelato, cono gelato, attenzione. Oh, attenzione. Prassi insieme, va bene. Ancora vento gelato che gli abbassa ancora la velocità, ragazzuoli. Ah, invece no. Bravo cono gelato, signori. Buono, buonissimo. Crystal colpo. Tipo acciaio. Siccome lei è un'attaccante speciale, io Slavina la toglierei, ragazzi, sapete? Però è una lotta in doppia buono, Slavina, quindi toglierei nebbia, casomai. Vai, sì, sì, sì. Casomai se Slavina andando avanti nel tempo si potrebbe cambiare, ragazzi. Musharna, perfetto. Violet, vai. Vai, Violet. Allora. Va bene. Facciamo un Giacuzze subito, Warfly. Forse anche doppia un Giacuzze, ragazzi, potremmo fare. Riccio lo scudo. Ok, facciamo un'altra, ragazzi. Direi proprio di fare un altro Giacuzze. Ok. Porto un Canto. In seguimento. Ok, gli abbiamo tolto un pochetto. Ancora in seguimento. Anche Musharna non è male da provare, ragazzi, come Pokémon, eh. In seguimento ancora, ragazzi. Iperpozione, va bene, va bene, va bene. Bella Iperpozione che si cura Totos. Eh, gli Heepard, ragazzi, mi deve imparare una bella mossa, eh. Una bella mossa tipo buio. Gli Heepard mi deve imparare tipo non lo so, eh, Morso. Mi impara Morso, penso sì. Eh, toglie, toglie veramente poco, ragazzi. Toglie veramente poco. Ok, ragazzi. Ok. Ok. Due minuti, tre minuti ci sono stato qui. Non moriva perché usava anche due Iperpozioni, ragazzi. Non pensavo che avesse due Iperpozioni. Però va bene. Volo? Ok. Ci è dato volo, ragazzi. Non pensavo, ok. Quindi, io direi proprio di farla imparare subito, ho sbagliato. Al grandissimo Dragulaz. E togliamo attrazione. Che non serve. A un cazzo. Allora. Poi. Che che c'è il condividi esperienze? Vediamo un attimo il condividi esperienze a Gelomai, ragazzi. A Gelomai, a... A conno Gelato. Ok. E direi di mettere per primo, ragazzi, gli Iperpozioni. Perché vi ricordo che ha bruciapelo. Intanto qui troviamo una bella Ultra Ball. Allora, percorso 6. Va bene. Oh, Deerling. Oddio, Pokemon tipo erba, ragazzi. Potremmo vedere un po' le mosse, casomai, eh. Ok, va. Deerling l'ho catturato. Perché ovviamente sto catturando tutti i Pokémon che incontro. Normale erba. Mi servirebbe un tipo erba, sinceramente. Perché contro l'acqua non so che cazzo usare. Vediamo, vediamo poi, ragazzi. Vediamo. Ma intanto mi ha fatto un bel danno, comunque, devo dire. Quindi curiamoci... Violet. Mi ha usato il riduttore, se ricordo. Ok, un altro Pokémon. Vediamo chi è. Oh, Carablast. Ok, catturiamo anche lui, ragazzi. Ok, catturato Carablast. Che è tipo curioso. Aspetta. Non mi ricordo neanche la sua evoluzione, sinceramente, ragazzi. Se devo essere sincero, eh. Non mi ricordo assolutamente la sua evoluzione. Però... Va benissimo, va benissimo. Allora. Scienziato. Derling, ok. Non ci metto Derling. Ma siccome è un tipo erba... Io direi di mettere... O Dracula, dopo. Ok. Oppure Pyro. Però Pyro ce l'abbiamo un po' a livello alto. Quindi non vorrei usarlo sempre. Sempre lui, ragazzi, sinceramente. Abbiamo usato già tanto, Pyro. Quindi sì, metterei proprio Dracula. Potremmo mettere anche il cono gelato, eh. Però... Con il riduttore penso che muore, lui. Ok, stavolta mi ha usato Parasitemen. Proviamo a usare Volo, ragazzi. Così, nel chill. Ma intanto voglio vedere una cosa con Volo. Attacco 45. Forse, forse lo dobbiamo shuttare. Ma forse, perché c'ha 90. Ha 90 di attacco Volo, ragazzi. Ok. Buonissimo. Abbiamo già una cosa buona, ragazzi. Abbiamo fatto imparare Volo. Sinceramente, parlando. Allora. Qui c'è un'altra. No. I Pogano con Pelle Arza. Durano le morsi di qualche pioggia. Ok. Da sotto scendevamo, quindi non ha senso scendere. Ok. Qua c'è un ranger. Che affrontiamo instant. Ok, il ranger è pazzurdissimo, ragazzi. Incredibilmente. Emolga, ecco. Anche lei, ragazzi, non è male. Anche Emolga, però, non si evolve. Quindi, un po'... Mi dispiace. È come face i risu, secondo me, questo Pokémon a Emolga, ragazzi. Però, secondo me, è pure più forte, perché è tipo volante. Vedi, ora non so chi cazzo usare contro lui, ragazzi. Lui non ha ancora sassata. Fattiamo sfuriate con gli Heppard, con Sbaiole, poi. No, ha statico, vero. Merda. Doppio team. Doppio team, ok. Ancora doppio team, ragazzi. Merda. Furiate, vedi, attacco. Non so, non so chi mettere, ragazzi. Con un gelato? Magari con un gelato, siccome è ghiaccio, lui è volante, potrebbe essere più verificace o qualcosa del genere, ragazzi. Vediamo un po', vediamo un po'. Vento gelato? Onda shock, mi faccia. Va bene. Non lo so quanto mi toglie, ok. Mi ho toglie un bel po'. Mamma mia. Dovevo essere anche più veloci, mi sa. No. Ti prego, resisti, cono. No. Non puoi farmi questo. Perché hai fatto questo, cono gelato? Perché? Ok, in seguimento mi hai fatto stavolta. Ok, resisto, resisto. Oh, però devi ucciderlo, cono gelato. Ragazzi, ma seriamente? È rimasto con una cazzo di da questo emolga, ma non vuole morire? Mamma mia, ragazzi, due di vita e l'ho ucciso. Mamma mia, queste emolde, è incredibile, regalola. Deerling, che ci metterei Dracula, sinceramente parlando. Che con volo l'abbiamo scioltato. Ho scioltato, quindi userei un'altra volta, vero? Rivello 27, ok. Vai con volo. Che me usa parassi seme? No, riduttore. Perfetto. GG per Dracula, ragazzi. Smubat, veramente forte, regaloso. Questo è il Smubat. La bacca, bacca c... Baccaliegia, ok. Ah, dobbiamo curare un po' i bambini, ragazzi, ora. Antiparalisi. Uno. Due. Poi, andiamo sotto. Super pozione. Ok. Questa, penso, è un'anatrice, sì. Plic, plic, cade la pioggia. Ploc, ploc. La pioggia sputa. Cosa sputa? Acqua. Oh, si chiama Sara. Oh, Sara. Sara, cosa fai, Sara? Ok. Pokémon Acqua, ragazzi. Ora. Ora. Forse posso uccidere le cobaiolette. No, 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 no. Vai. Ok, sfuriate. Farne cinque. Va bene. Va benissimo, va benissimo. Va benissimo, così va bene. Però non puoi evitare sempre queste cazzo di sfuriate, però va bene. Dai però, Violet. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo, ragazzi, ma ci credo. Colpo di fango. È andato, KO. Un altro Timple. Va bene. Mi sa tutti Timple questa. Facciamo Barabonda, va. Minchia. Va benissimo, ragazzi, con Barabonda, sinceramente. Toglio un fottio. Timple ancora, vai. Continuiamo con Barabonda, ragazzi, sinceramente. Barabonda non è male, comunque, come mossa, se devo essere sincero. Toglie tantissimo, ragazzi. Ancora Barabonda, ancora Barabonda, vai. Perfetto. Oh, Frog, piano piano, livello 29, signori. Eccolo qui. Ancora Timple. Aveva quattro Timple. Pensate ad avere quattro semi-stod, tipo, alla fine, ragazzi. Cioè, è una roba incredibile, penso. Pazzuddissimo, proprio. Ok. E Timple è andato. È battuta anche questa, ragazzi. Magnifica, Sara. Andiamo. Qui c'è un altro. Quanti allenatori ci sono in questo percorso, comunque? Tutti strani, tutti incredibili, pazzordi. Dante. Ok, Dante. No, va a Pyro. Pyro è il primo, ragazzi, perché ovviamente mi è morto di Heppard. Ok. Nitrogarica. Attacco Ick, semmo. Tanto penso che tra... No, non gli ha fatto un cazzo, ragazzi. Penso che tra poco, tanto, ragazzi... Stavo dicendo che incontreremo un centro Pokémon. Penso, eh. Se no, devo curare io gli Heppard. E penso proprio di sì, ragazzi. Forse qua cura, però, non lo so. Quattro stagioni. Quattro stagioni di Derling, forse, ragazzi. Ok, devo portare Derling qua, ragazzi. Ok, 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 ok. Ok, dobbiamo portare Derling, quello che abbiamo catturato, qui da loro. Un'iperpozione bellissima, patatina. Elisir. Devo dire, veramente buona. Ma io intanto ho visto che... Centro Pokémon non c'è. Quindi lo curiamo noi. E direi anche di guardare Pyro. Che ritorna ai suoi 104 HP. Pokémon. Ovviamente... Tino un Derling. No, vabbè, ragazzi, ho fatto un passo. Ho fatto un passo. Oh, questo non ci abbiamo. Oh, anche Pongus. Tipo veleno, erba, ragazzi. È molto interessante. Potrei prenderlo. Cioè, potrei metterlo in squadra, lui, eh. Poi vediamo. Casomai possiamo anche trasformare la squadra. Sporgi spora. Sporgi spora. Merda. Buonissimo. Ok, ragazzi, abbiamo fatto l'autofongus. Io gli do il soprannome, ok? Non so, mi va a chiamarlo così, ragazzi. Cares. Non so perché. Mi piace il nome Cares su di lui. Ok. Casomai poi lo potremo mettere in squadra. Poi ci penso, ragazzi. Cazzo, ho sbagliato. Gliopard sta dormendo ora. Va bene, dai, va bene. Va bene lo stesso. Tanto ci metterò... Slubat, casomai. Vai con Draculaz. Vai con Draculaz. Attenzione. Velocità X. Comunque ho letto Lugia. Invece era Lugia, tipo. Cazzo di nome, ragazzi, comunque. Cazzo, finta. Porca troia. Derling con finta, ragazzi. Calcio... Ragazzi, ma che mosse ha questo Derling? Ok. Porca cazzozza. Con un giallo 27. Velocità 27, minchia, fa sbocco, ragazzi. Allora, curiamo i Pokémon. Direi anche di svegliare quel Biolet, raga. Forse non ho sveglia. Anzi, è quella qua. È vero? L'avevo comprata, l'avevo comprata. Cinque di ogni cosa l'avevo comprato. Non so se vi ricordate. Aiuto. No, è un Pokémon. Porca merda. No, non pensavo. Oh, invece questa è pietra foglia, ragazzi. Va benissimo. Ma sconfiggiamo questa. Oh, pietra foglia qua, raga. Per favolvere qualche Pokémon tipo foglia. Eh, sì, tipo foglia. Non ho mai sentito Pokémon tipo foglia, ragazzi. Pokémon di tipo erba non è male, non è male. Oh, Vanillite. Il Bomber Cono Gelato, signori. Un bel bruciapelo. E poi mettiamo, per forza Pyro, ragazzi. Mi sa, sapete? Sì. Per forza Pyro. Provocazione. Va benissimo. Unidrogario. Ciao, Cono. Ciao, Cono Gelato. Ok, velocità di Pyro aumenta. Frillish. Pokémon ha qua. Mettiamo Dracula, mettiamo Dracula. Merda, ragazzi. Comunque, vedi? Mi serve qualche pavone erba o elettro. Galvantula già ci sa nel team, eh. Galvantula lo voglio, ragazzi. Quindi ci sarà Galvantula nel team. Ve lo dico subito. Hydro pulso. Hydro pulso. È vero. È vero. Lui è acqua spettro. È vero, ragazzi. Vai con garanzia. Porca cazuzza. Mi sono dimenticato dei Frillish. È vero. Va benissimo. Buono. Buono. Ok, qua c'è un altro Ranger. Perpettissimo. Allora. Mincino. Va benissimo, Mincino. Va benissimo. Brucia Peloz. Pelo, madonna. Ragazzi. Metà vita gli ho torto. Che cazzo era? Ok, ho fatto un brutto colpo con Brucia Pelo. È però incredibile. Pumete. Pure lui non ho mai usato Mincino. Come Pokémon. Vai con Sperletese. Perfetto. Addio Mincino. Ok, intanto qua è esperienza un po' a tutti. Emolga, emolga, emolga. Userei ancora Pairo, ragazzi. E userei Rotolamento, proprio. Doppio team. Va bene. Rotolamento evita l'Attacos. Ok. Oh, è chiaro alle. E dai. Ragazzi. È stata una lotta incredibile contro Emolga. Però, ok. È incredibile con quegli Emolga. Come cazzo sono? Baccaliegia ancora. Ma questo sarà sicuro un Fongus. Infatti. Ma forse siamo arrivati al centro Pokémon. Non è vero. Quindi. Antiparalisi. Ma non mi ricordo un cazzo. Su sta strada, ragazzi. Sinceramente. Superpozione. E superpozione. Vai. Meno male che ho comprato un fottito di roba. La cava a pietra elettrica. Parola brinto. Innestricabile. Ma in realtà la strada è una sola. Ah, ok. Stiamo nella cava. Ok. Prendi questa. Oh, pietra brillo. Oh, qui si può riposare. Ho spiegato le cose, ragazzi. Perfetto. Allora. Vediamo un po'. Cosa c'è qui. Cosa ci sta qui. Oh, si weddle. No. Swaddle. Attenzione. Voglio dire di fare. Brucia pelo a Swaddle. E nitrocarica a Deerling. Ok. Vorrei catturare i Swaddle, ragazzi. Se ricordo, lui si evolve con la pietra foglia. Quindi possiamo metterlo nel team. Casomai. Calcio salto. Merda. Merda. Ok. Perfetto. Deerling è morto. Perfetto, ragazzi. Catturare i Swaddle. E io direi di nominarlo subito. Ok. Di nominarlo subito. E lo chiameremo. No. L'Eran. Non lo so. Li sto un po' inventando i nomi, sinceramente, ragazzi. Però sono carini. Sono carini. Ok. Puliamo i blocchi. Non lo so se qua c'è qualcosa. C'è un repellente, magari? Mi sa di no. Non hai repellenti, ragazzi. No. Va bene. Ah, ok. Non c'era nessuna poca. Ok. Cava. Pietra elettrica. Ok. Rafan sta venendo qui, ragazzi. C'è una regna della strana. Galvantula. Ragazzi, cattureremo galvantula. Ok. Forse io nel team... Non so se togliere gli Heepard e cono gelato. Per mettere uno tipo erba e uno tipo elettro, ragazzi. Battiterra? Ok. Ok, ragazzi. Perfetto. Perfetto. Prima di entrare, io direi di salvare qui, ragazzi. Lo faremo nel prossimo episodio, la cava a pietra elettrica. Nel chill, proprio. Vai. Ok. Allora, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like. Con del video, commentate e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, chicchi!